Colleghi, questa crisi non solo dell'industria è conseguenza di aver favorito per decenni la delocalizzazione industriale e la cessione di know-how anche in prodotti strategici come le batterie e di aver insistito sul motore endotermico. Credo sia giusto aver accelerato ora verso la decarbonizzazione e l'elettrificazione. Tuttavia, gli obiettivi lodevoli del Green Deal non sono seguite le necessarie politiche economiche e finanziarie espansive. Anzi, è tornato il patto di stabilità e la BCE ha aumentato i tassi. Mentre l'economia galoppa negli Stati Uniti grazie all'Inflation Reduction Act e in Cina con gli aiuti di Stato non si sta come in autunno sugli alberi le foglie. Siamo contrari a rivedere le scadenze già stabilite, ma chiediamo aiuti europei a industrie acquirenti, crediti fiscali e tassi di interesse più bassi, più autoelettriche basiche, senza lussi inutili quattro ruote, un motore, batterie modulari. Più autoelettriche per il popolo, per le famiglie accessibili, meno polveri sottili in città. Grazie.